Beh ovviamente vi ringrazio perché questo video in teoria doveva essere unito a quell'altro vi avevo chiesto di mettere dei mi piace per farmi capire la vostra voglia di vedere questo video alle 8 di mattina avete risposto presente, avete spaccato il tasto e quindi eccolo qua quindi iniziamo al meglio la giornata con un video che parla di Paolo Di Bala e una statistica abbastanza interessante, interessante, non so parlare un mi piace ancora a questo punto dato che il video è andato bene e vi ringrazio tanto buona visione e buon martedì mattina e dobbiamo ricordarci che comunque la Juventus sta rinnovando il contratto di Paolo Di Bala a cifre molto alte e che quindi l'attaccante che vai a prendere oggi e che con tutta probabilità sarà l'erede di Morata che non verrà riscattato dovrà trovarsi a suo agio a convivere con Paolo Di Bala di cui parliamo nella seconda parte di questo video e ringrazio lo sponsor del video di oggi che è OneFootball ragazzi quindi scaricate OneFootball, l'app è disponibile nella descrizione di questo video c'è il link, ve lo scaricate, ve lo cliccate e tutte le informazioni di calcio mercato tra cui queste Scamacca 40 milioni di Bala che rinnova a quadrado di cui abbiamo parlato nel video precedente ve le trovate su OneFootball anche se si giocherà o meno Juve Napoli come ho detto oggi è ora di pranzo praticamente scaricatevi OneFootball, è completamente gratis e di Paolo Di Bala stavamo parlando perché ho analizzato alcuni dati e quello che è venuto fuori è veramente curioso e divertente e cioè vi mostro questa schermata qua questa è la schermata che mette in ordine di tiri a partita tutti i giocatori della Juventus di questa stagione come potete vedere Paolo Di Bala al primo posto per ogni partita Paolo Di Bala tira in media 4.1 volte e c'è una voragine con gli altri perché poi c'è Morata 1.9 Bernardeschi 1.7, Chiesa 1.3 1.5 scusate 1.1 quadrado come Moise Ken quindi veramente Di Bala è il fulcro offensivo della Juventus quando c'è Di Bala la Juventus tira in porta con maggiore frequenza e riesce a fare qualcosa là davanti c'è una lucina che si accende di tanto in tanto questi sono dati inerenti soltanto alla Serie A come potete vedere Di Bala è il goleador pari numero di goli insieme ad Alvaro Bonata 5 ma stiamo parlando di un giocatore che ha giocato 946 minuti contro 1.234 quindi quasi 300 minuti di differenza ha fatto gli stessi gol Di Bala ha fatto anche un assist in più è il giocatore che tira di più a partita come valutazione rating è il voto che viene trattato da Vscored che è il sito da cui ho preso questa immagine è anche il giocatore col numero più alto quindi è il giocatore che passatemi il termine da VAR gioca meglio nella Juventus c'è poco da dire percentuale passaggio 84% quindi tutto bene sembra proprio che Di Bala sia il giocatore insostituibile di questa Juventus e che quindi appunto la Juve faccia bene a rinnovarlo poi c'è il discorso problemi fisici e proprio lì lo vediamo una colonna di minuti alla fine Di Bala non è che abbia giocato tutti questi minuti però sperando, incrociando l'edita pensando che possa fare meglio in futuro tu guardi questa roba e dici la Juventus non può fare a meno di Paolo Di Bala paradosso paradosso perché sempre nello stesso sito oltre a questi dati super positivi per Paolo Di Bala ne ho trovati altri che mi hanno fatto riflettere perché la Juventus in queste prime 19 partite di Serie A ne ha vinte 10 in quante di quelle 10 partite vinte Paolo Di Bala è stato un giocatore per almeno 45 minuti in campo per la Juve? vediamolo subito queste sono le partite disputate da Paolo Di Bala Di Bala ha vinto soltanto quelle evidenzate in giallo Spezia Fiorentina Sallernitana e Genoa come potete vedere di fianco ci sono i minuti col Venezia ha giocato 12 minuti quindi è ovvio poi non abbiamo nemmeno vinta l'unica che ne ha giocati 22 ha pure fatto gol è la Sampdoria dove abbiamo vinto però ha giocato 22 minuti difficile vogliamo mettercela mettiamocela guarda mettiamoci anche la Sampdoria sono 4 più 1 che fanno 5 su 10 vittorie da Juventus Di Bala ha vinto solo 4 e un quarto diciamo così 4 più 1 facciamo così 4 più 1 e ha segnato nelle partite che abbiamo vinto quindi Genoa Salernitana Sampdoria e poi aveva fatto gol con l'Udinese dove abbiamo pareggiato aveva fatto gol con l'Inter dove abbiamo pareggiato però Di Bala è importantissimo nello sviluppo della manovra della Juventus super importante ho l'assist giocate ordine perché sostanzialmente Di Bala ti dà ordine lì davanti però è incredibile vedere come Di Bala tutte le volte che magari invece non c'è stato la Juventus ha raggiunto dei risultati anche senza Di Bala anzi ha raggiunto più risultati positivi senza Di Bala che con Di Bala questa cosa è allucinante poi io ribadisco penso che siano coincidenze ne avevamo già parlato in un altro video qualche tempo fa in cui vi portavo delle statistiche più dettagliate ma con un ventaglio più ristretto perché non avevamo ancora giocato diciamo le partite ma molto meno però in Serie A c'è questa contrapposizione legata a Paolo Di Bala quando c'è Di Bala la Juventus crea di più palleggia di più tiene più la palla riesce ad effettuare più tiri riesce a essere più ordinata riesce a essere più bella anche da vedere proprio a livello estetico ma soprattutto più efficace perché produce di più tira in porta di più quando non c'è Di Bala la Juventus abbassa queste statistiche diventa una Juventus molto più operaia una Juventus molto più quadrata molto meno estetica molto meno efficace anche se vogliamo sotto il punto di vista della produzione offensiva ma riesce comunque a vincere le partite anche senza Paolo Di Bala questa cosa davvero faccio fatica in questo momento a inquadrarla ed è per questo che vi dico sono curioso di vedere le successive 19 partite del campionato con un attaccante forte fisicamente come può essere Scamacca o come può essere l'illazione Beto che vi ho lanciato insieme a Paolo Di Bala perché Paolo Di Bala insieme a quel dato dei quattro tiri a partita ci portiamo avanti un'altra cosa che se è vero che fa quattro tiri a partita di media ha segnato soltanto cinque gol automaticamente ti viene da dire che quindi Paolo Di Bala è molto impreciso nelle conclusioni tira tanto segna poco non è in grado di finalizzare perché Di Bala non è il centroavanti della Juventus e tante volte mi ritrovo a sentire persone che mi dicono ma se non è la Juventus dovrebbe giocare con Di Bala falso 9 è interessante affascinante è quello che volete ma Di Bala continua a non essere un centroavanti è inutile dirmi è però a Palermo sì però a Palermo non giocava per entrare in Champions per provare una rincorsa giocava per salvarsi giocava per salvarsi in una posizione in cui comunque giocava insieme a Vasquez ed era un gioco particolare non è il gioco che fa la Juventus non era quello l'obiettivo era una stagione nella quale ti salvavano tutto bene il miglior Di Bala l'abbiamo sempre visto insieme a giocatori alla Mandzukic e alla Higuain soprattutto il secondo anno di Higuain alla Juve quando Higuain si è messo molto a disposizione di Di Bala così come Mandzukic nel primo anno di Bala a Juventus Mandzukic ha giocato molto in funzione di Di Bala ma Mandzukic è sempre stato quel tipo di attaccante Morata quest'anno non sta giocando in funzione di Di Bala perché è difficile per Alvaro fare quel tipo di gioco come non ha mai giocato Cristiano Ronaldo in funzione di Di Bala e questo spiega perché Di Bala in tutti e tre gli anni di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha fatto un po' fatica dove si è ripreso nel finale di stagione con Maurizio Sarri quindi nel giro di ritorno post-Covid dove Di Bala veramente è stato il migliore della Juventus ma Sarri aveva cambiato molto il suo approccio alle partite aveva lasciato tantissime libertà a Di Bala e a Cristiano Ronaldo accantonando il suo credo e adattandosi adeguandosi alla squadra quindi è ovvio che poi il talento dei due singoli era venuto fuori era arrivato addirittura a rinunciare a Douglas Costa Maurizio Sarri che è stato il giocatore che più di tutti secondo me ha condizionato il suo credo perché quando Douglas Costa non era stato disponibile Maurizio Sarri aveva accantonato il 4-3-3 passando a rombo si era accorto che Di Bala e Ronaldo erano altra pasta rispetto ad Douglas Costa e che quindi doveva giocare per Di Bala e per Cristiano Ronaldo togliendo anche un attaccante come Douglas Costa mettendo due giocatori di equilibrio come Matuidi e Bernardeschi per far funzionare il tutto per cercare di far vincere le partite ai campioni che faceva le giocate e ha vinto lo scudetto e questo è assolutamente da riconoscere a Maurizio Sarri invece adesso ci ritroviamo in un momento in cui senza Cristiano Ronaldo stiamo facendo fatica a segnare e chiedere tutto a Paolo Di Bala non è possibile chiedere tutto a Morata e Morata non è mai stato quel tipo di giocatore lì e serve un altro io non penso che né Beto né Scamacca possano essere in questo momento i giocatori ideali per darci qualche cos'altro però se l'idea della Juventus rimane quella e cioè in questo momento tessero solo chi davvero ci credo ripeto a parte Ken che era un momento di emergenza allora fatelo fate quello che volete l'importante è che poi ci si assuma le proprie responsabilità perché oggi investire 40 milioni per Scamacca sembra una follia come sembrava una follia investire in 60 per Chiesa con Chiesa ci siamo ricreduti praticamente tutti abbiamo detto alzo le mani avete vinto voi speriamo di fare la stessa cosa con Scamacca a 40 milioni continuo a ritenerli eccessivi ecco per il tipo di giocatore che è ma mi auguro di no mi auguro di vederlo diventare il prossimo pallone d'oro quanto farebbe ridere Scamacca a pallone d'oro con la Juventus basta vi angelette troppe grazie a tutti